Questa vecchia piantina, ricavata da un report di Vicar Standard su S.Y.Country, mostra in verde la linea oggi utilizzata dalle locomotive che vanno dall'impianto di caricamento Blue Loader a quello di scarico e trattamento del carbone. La diramazione per Dong Bolizan viene utilizzata per il cambio del turno al mattino e alla sera oppure per i treni che proseguono sulla linea di colore arancio fino all'altro sito per lo scarico del carbone. Musica Musica Ormai è sera, ed esattamente come al mattino, dopo aver scaricato il loro ultimo treno, i macchinisti si portano dall'impianto di trattamento e lavaggio alla stazione intermedia di Kang Kong Zan. Da qui, invertendo la marcia, ritornano a Dong Boli Zan, dove verrà effettuato il cambio del personale. Non prende questa macchina, la funzione! Quando il treno passeggeri è pronto a partire, l'oscurità è quasi totale. Un altro è il treno è appunto strutturare qua, poi un'è il treno è più forte, Iniziamo un po' di due. Iniziamo un po' di due, un po' di due, e un po' di due due, poi un po' di due, Noi proviamo ancora a fare qualche ripresa, ma si fa sempre più notte ed è buio pesto. Mi sono domandato che cosa riesce a vedere il macchinista da dentro la cabina della locomotiva e se questo è quello che si vede grazie ad una piccola lampadina immaginate a fare una piccola lampadina immaginate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo questa ripresa non abbiamo più dubbi. Qui ci dobbiamo tornare le prossime mattine e anche alla secca. Dopo aver colto l'attimo fuggente abbiamo a disposizione tutta la giornata. Lì vicino vediamo un treno che dopo aver caricato il carbone nell'altro sito, passando dietro all'officina locomotive e poi per Dong Bolizong va di nuovo a caricarsi di carbone. Alla prossima. Alla prossima. Fortuna vuole che subito dopo su un altro treno faccia il percorso inverso e questa volta grazie al percorso ad esse dalla nostra posizione riusciamo a seguirlo fino alla Koch Plant. dentro. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Dopo un'inversione di marcia ed essersi portato all'impianto di scarico, il treno facendo lo stesso percorso in senso inverso ritorna all'impianto di caricamento. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Siffletà. Mentre il treno prosegue il suo lavoro noi decidiamo di prenderci una pausa ristoratrice. Ecco Paolo che entra al ristorante. Adesso sentiamo guarda a porta. Hai visto? Perfino le poltrone, il tavolino che appena ha pulito, guarda che l'ho già ordinato la un po' calda io eh. Per te però. Sì sì sì. Te fai quello che vuoi. Guarda che meraviglia. Perfino in televisore al plasma abbiamo. Frigorifero. Tutto quello che vogliamo. Ecco là si sta scaldando chissà che cosa. Che meraviglia. Dopo aver lautamente pranzato decidiamo di restare in zona e tra un treno che va è uno che viene. Aspettiamo il tramonto. Aspettiamo il tramonto. Aspettiamo il tramonto. Aspettiamo il tramonto. la serata promette molto bene sarà comunque il caso di spostarsi un pochino dato che qui più di questo non credo possiamo fare è ok 1 1 1 2 2 2 2 3 Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto mi sono reso conto che non si può fare tutto. Da questa parte del binario ho potuto riprendere la locomotiva illuminata dal sole basso, mentre se fossi stato dalla parte opposta avrei potuto riprendere il sole dentro l'inquadratura. Ma per fortuna la giornata non è ancora finita. Dopo pochi minuti infatti arriva un treno, però procede con esasperante lentezza, non solo, ma decide proprio di fermarsi sotto il semaforo. Quando ormai manca poco alla comparsa del sole, ecco che il treno si muove. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mattino seguente la fortuna non ci assiste più come ieri sera e l'ultimo treno passa prima che il sole sorga. Eccolo il master shot. Peccato che manca il treno. Decidiamo di ritornare la sera e nel frattempo dedicheremo la nostra giornata alla visita di qualche altra località. Grazie a tutti. 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 via di servizio all'interno dello stabilimento della miniera. Dopo questa visita non ci resta altro che tornare all'ingresso dell'impianto di scarico e sperare in un bel tramonto. Arriviamo che è ancora troppo presto, però c'è comunque un bel traffico. Grazie. Poco dopo ecco che arriva un altro treno. Sembra proprio che la scena appena vista debba ripetersi. Grazie. 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 Fortunatamente, sembra che anche in Cina valga il nostro proverbio, non c'è due senza tre. Fortunatamente, sembra che anche in Cina valga il nostro proverbio. Fortunatamente, sembra che anche in Cina valga. Fortunatamente, sembra che anche in Cina valga. Fortunatamente, sembra che anche in Cina valga il nostro proverbio. Fortunatamente. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. e prima che il sole scenda del tutto ecco l'ultimo passaggio grazie a tutti. Grazie a tutti.